ok dovremmo essere in diretta e come tutte le dirette più interessanti che facciamo iniziano sempre con dei piccoli problemi nel senso che proprio dieci secondi prima di andare in diretta youtube ci ha segnalato che la qualità dello streaming non è buona allora vi chiedo gentilmente alle persone che si stanno collegando se l'audio è ok e se il video è ok allora l'argomento di questa sera è un argomento che a prima vista potrebbe sembrare un argomento un po tecnico un po per addetti ai lavori in realtà se avrete la pazienza di seguire tutta la diretta scoprirete soprattutto nella seconda parte che è un argomento che ha delle ricadute importanti sia per le persone che devono fare un prato ex novo sia delle persone che hanno già un prato questa sera come avrete in come avete intuito dal titolo della diretta parleremo del terreno ideale che serve a creare un prato sano forte ovvero a mettere nelle condizioni il prato di nascere di crescere e di mantenersi il più robusto possibile prima prima di entrare nel vivo del tema lasciatemi salutare le prime persone che sono arrivate che già mi hanno dato il feedback che è tutto ok è andata bene anche stavolta saluto stefania giorgi benvenuta ben ritrovata domenico di piazza mi fa piacere vederti di nuovo con noi nicolas di angelo che si collega addirittura dal dal kenia bene sarà in vacanza nicolas mi fa piacere per te saluto anche umberto cusaro che mi fa sapere che tutto quanto ok allora prima di entrare nel vivo della cosa un doveroso spazio al nostro sponsor perché queste dirette su youtube hanno uno sponsor questo episodio di besprato live è sponsorizzato effettivamente da terraplast terraplast progetta e costruisce vasi in resina plastica da esterno caratterizzati dal tipico stile ed eleganza italiana i vasi terraplast li trovi ovviamente nei migliori garden center d'italia ed ovviamente anche in besprato usa il codice sconto trp 18 per acquistare il tuo vaso su besprato ecco così abbiamo assolto anche a questa importante momento perché gli sponsor da una parte besprato ma anche gli altri sponsor sono coloro i quali ci permettono anche di investire tempo nel fare questi approfondimenti allora se se è tutto ok direi di partire subito con l'argomento allora quando si parla in realtà di del terreno di un prato ci scontriamo molto spesso con un po di ignoranza a riguardo e per questo prima di parlare di quello che sarà il terreno ideale facciamo una piccola premessa ovvero andiamo a capire e senza entrare magari troppo nel dettaglio ma quelli che sono gli elementi fondamentali che determinano se un terreno è buono oppure no e tra le altre cose sono gli elementi che poi vanno a formare il terreno quello che noi chiamiamo terreno in realtà lo dobbiamo pensare fondamentalmente costituito da quattro elementi un terreno è costituito da aria un terreno è costituito da acqua un terreno è anche costituito dagli organismi terricoli i nostri cari piccoli lombrichi e tutti invece poi anche invece i microrganismi che vanno poi a comporre quel ricchissimo ecosistema che è presente organico che è presente nel sottosuolo ed infine la parte probabilmente più conosciuta e probabilmente anche la parte più importante che è la parte solida del terreno parte solida che da un punto di vista prettamente scientifico potremmo dividere in due parti da una parte la sostanza minerale e dall'altra parte la sostanza organica ho voluto fare questa premessa e andremo anche in ulteriore approfondimento perché vedrete nella seconda parte di questa diretta che sarà molto importante tenere a mente questi elementi che compongono il terreno vediamo spostiamoci un attimino nei primi due elementi di cui ho parlato per quanto riguarda gli organismi terricoli non entreremo nel riguardo casomai ne tratteremo in una diretta non sono così importanti per la definizione di un terreno ideale la presenza di una intensa attività microbica ed una intensa presenza di organismi terricoli è una conseguenza di una corretta presenza di sostanza organica ma ci arriviamo ci arriviamo dopo allora andiamo un attimino in approfondimento sulla riflessione dell'aria e dell'acqua che devono essere presenti nel terreno non lo faccio a caso questa riflessione perché vedremo poi come questi due elementi aria e acqua siano in realtà regolati creati sostenuti dalla parte solida del terreno parliamo in primis dell'aria l'aria è di fondamentale importanza che sia presente all'interno del terreno perché perché le radici sono in grado di assorbire i nutrimenti solo in presenza di ossigeno c'è una sorta semplificando di respirazione attraverso la quale le radici assorbono i nutrimenti ma questo è possibile solamente nel momento in cui c'è presenza di aria l'aria all'interno del terreno si forma in piccoli pori che proprio piccoli piccoli non sono perché tra un attimo vedremo che quelli più piccoli in realtà sono occupati dall'acqua quindi nei pori un po più grandi diciamo sopra i 10 20 micron 10 20 millimetri millesimi di millimetro su questa dimensione si vengono a creare le zone di aria che sono utili ma l'aria all'interno di un terreno non deve essere presente in grandi quantità e per quale motivo non deve essere presente in grandi quantità non deve essere presente in grandi quantità perché all'interno del terreno ci sono anche i cosiddetti microrganismi anaerobi ovvero anaerobici ovvero che lavorano in assenza di ossigeno e sono dei microrganismi importantissimi perché pensate un po sono i microrganismi che poi fissano l'azoto ovvero rendono disponibile l'azoto alla pianta sto entrando un po forse troppo nel dettaglio nell'argomento però cercherò di utilizzare termini tecnici non di non utilizzare termini tecnici è importante capire come questa presenza di aria non troppa e non troppo poca sia di fondamentale importanza per la salute del prato è il motivo per il quattro per il quale io consiglio sempre dopo aver lavorato il terreno e quindi averlo mosso c'è troppa presenza di aria il terreno va compattato ma un terreno va evitato anche che si compatti troppo e tra un attimo ci arriveremo ed è per questo motivo che molto spesso si eseguono le bucature le carotature sono e anche le arieggiature la parola stessa arieggiatura con magari una leggera incisione superficiale del terreno servono a creare a generare quello scambio gassoso all'interno del terreno utile e necessario per la vita del prato sto entrando troppo nel dettaglio sto utilizzando dei termini poco chiari fatemelo sapere nei commenti assolutamente se se devo magari cambiare il tono e rimanere un attimino un po più in superficie però vi vorrei condurre attraverso questo ragionamento e tra un po quando parlerò del terreno ideale tutto avrà una quadra allora teniamo lì l'argomento dell'aria ok area importante che sia presente area che è presente nei fori un po più grandi e tra l'altro dopo vi faccio vedere una slide molto interessante su questo che fa capire ed entriamo nell'argomento dell'altro componente del terreno necessario e fondamentale perché questo possa costituire un terreno ideale per la creazione di un prato e l'acqua l'acqua è un argomento spinoso l'acqua è presente nel terreno generalmente nelle cavità più piccole nelle cavità che poi creano anche la capillarità si dice del terreno e queste cavità micro cavità sotto i 10 micron di millimetro sono quelle che poi mantengono nella nelle quali ristagna un po d'acqua che poi viene assorbita dalle radici quindi capite benissimo che c'è che è molto importante che nel terreno ci sia una presenza minima un ristagno minimo dall'acqua ma se avete seguito molti dei video che abbiamo fatto ed alcune delle dirette di approfondimento sui temi delle malattie del prato dovreste sapere che una presenza troppo significativa di acqua nel terreno è portatrice di malattie perché un terreno costantemente troppo umido crea l'ambiente ideale per lo sviluppo delle malattie fungine quindi anche l'aria e quindi queste microporosità devono essere presenti nel terreno nella giusta quantità non devono essere troppe non devono essere troppo poche così come l'aria non deve essere troppa e non deve essere troppa poca c'è una regola provata in laboratorio che un giusto equilibrio è avere una quantità di microporosità in cui risiede l'acqua uguale a una quantità di macroporosità nelle quale risiede l'aria ma questo qui è un po' troppo teorico per noi è importante capire che questi micropori macro e micropori devono essere presenti nella giusta quantità tutto chiaro fin qua ok un attimo il forco gli occhiali vedo se mi avete dato un feedback nel frattempo saluto ovviamente masca alzano latino alessandro beniero dario san giovanni paolo giordano è buono fare del compost per il prato arrivano già le prime domande scrivete scrivete tutte le domande ad esempio sul tema che sto trattando o se alcune delle cose che sto dicendo non sono chiare allora adesso vi volevo proprio far vedere grazie ai potenti mezzi che la regia ci mette a disposizione questa slide in questa slide credo che sia online vedete proprio una classica struttura di un terreno da prato nel quale sono presenti delle vari tipi di porosità vari tipi di spazi nei spazi via una presenza di acqua e nel lì nell'altra parte di una presenza di aria in realtà un po qui è un immagine solamente un po così per far capire come si vengono a creare delle situazioni nel quale non c'è l'aria e c'è l'acqua probabilmente questo qua in realtà è un terreno troppo pre con troppa presenza di acqua e con la giusta presenza di aria probabilmente c'è un po troppo di micro porosità in realtà bisognerebbe entrare in un in un dettaglio ancora maggiore andare a ragionare e tra un po' arriveremo anche su questo argomento ma facciamo adesso cerchiamo di tenere uniti questi due discorsi abbiamo capito che queste porosità sono importanti ok sono importanti per la presenza dell'acqua sono importanti per la presenza dell'aria ma chi è che genera queste porosità l'avete visto no l'avete visto nella nell'immagine che rimetto in sovraimpressione come ci siano questi granelli marroni che sono proprio i granelli della terra granelli non è proprio un termine scientifico ma a me piace questi granelli la loro sfaccettatura la loro differenza dimensionale soprattutto la loro differenza dimensionale vanno a creare ecco questi piccoli spazi e quindi la presenza di questi granelli e la loro composizione fa sì che un terreno sia più o meno arioso più o meno drenante nella classificazione è stata inventata una classificazione dei granelli presenti all'interno della terra ed è una classificazione che noi che molti di voi conoscono senza sapere di conoscere tra l'altro è stata diciamo pensata ideata una tabella di classificazione della varie delle varie granulometrie dei terreni le particelle più grandi sono le cosiddette particelle di sabbia le particelle più fine sono le cosiddette particelle di argilla mentre quelle in mezzo che non sono né carne né pesce è il limo il dipartimento degli stati uniti dell'agricoltura degli stati uniti usda ha creato una sorta di tabella nella quale incasellare i vari tipi di terreni a seconda di quanta sabbia anno di quanta argilla anno e di quanto limo anno ha proprio venuto fuori una tabella po complicata da leggere che vi voglio solo far vedere che è questa qui nella quale appunto è un triangolo di composizione del terreno che fa vedere come un terreno assume diversi nomi un terreno argilloso vedete con una presenza di argilla superiore da 60 per cento in su eccetera 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 ma noi di tutto questo discorso in realtà interessa conoscere e sapere solo un'unica cosa ovvero qual è il terreno ideale e perché questo terreno è ideale così se voi vedete in questa tabella che ho appena tolto e che vi rimetto ho dipinto io in questo caso creato un elisse nella quale fa capire come quella zona verde un po verde un po più scuro sia la zona che va a definire il terreno ideale per la realizzazione di un prato ed è in buona sostanza ve lo dico adesso senza entrare nei dettagli non voglio mettermi a fare troppo dopo andare in profondità ma è stato definito come il terreno ottimale per la creazione di un tappeto erboso di tipo residenziale è un terreno nel qualche composto dal 70 per cento di sabbia e quindi di particelle più grossolane quando diciamo sabbia intendiamo sabbia silicea possibilmente dopo magari entriamo nel dettaglio ma quindi con una granulometria che parte da 0,3 mm fino a 1 2 mm quindi la si vede questa sabbia grossolana questa è l'elemento che è stato definito più importante per la realizzazione del prato il 30 per cento invece deve essere composto da una parte molto più fina un po più fina che ha delle caratteristiche diverse e vediamo un attimino perché la sabbia la sabbia ha una superficie sono dei grani un po più grandi e quindi vedete che questi grani messi vicino uno all'altro crea delle zone un po più ampie zone un po più anque nelle quali più facilmente risiedono possono sussistere l'acqua e l'aria e quindi un terreno fondamentalmente costituito da una grande quantità di sabbia in terreno che in cui l'acqua drena più facilmente perché gli interstizi sono un po più grandi in cui vi è una presenza di ossigenazione maggiore viceversa un terreno che fosse composto da molta argilla è un terreno in realtà che tende ad avere particelle molto fine e quindi piccoli spazi per la presenza di aria e per la percolazione cioè l'acqua rimane praticamente in superficie perché il terreno si compatta le particelle fini non creano creano degli spazi che fondamentalmente l'acqua non drena non va in profondità mentre con la sabbia questi spazi un po più grandi l'acqua arriva magari al tempo dà al tempo le radici di essere assorbita ma pian pianino non 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 ristagna ad esempio nella superficie mentre i terreni argillosi tendono a compattarsi a ristagnarsi d'acqua il che se da una parte crea un'ottima idratazione delle strutture vegetali dall'altra parte è un problema perché l'acqua ristagnando crea le condizioni ideali per lo sviluppo delle malattie fungine quindi è stato definito come un bilanciamento di 70 per cento sabbia e 30 per cento limo e argilla e anche lì dovrebbe aprire un capitolo a tal riguardo è fondamentalmente un terreno ottimale per la creazione di un prato residenziale attenzione residenziale perché se voi andate a vedere ad esempio i campi da golf in realtà sono qua i campi da calcio sono interamente costituiti da sabbia la sabbia è un inerte è proprio la parola stessa dice inerte quindi è praticamente un substrato che permette alle radici di vegetare molto bene perché c'è la presenza di aria e quindi si possono creare e strutturarsi bene dopo nel momento in cui vogliamo bagnare diamo acqua l'acqua arriva però scivola via velocemente e permette una gestione molto precisa gli stessi nutrimenti vengono somministrati in un terreno sabbioso vengono resi disponibili alle piante ma poi l'eccesso se ne va via quindi capite benissimo che un altissimo contenuto di sabbia quindi con delle percentuali dell'ottanta per cento è un ottimo terreno che però se non è controllato cioè se non è manutentato cioè se non facciamo delle irrigazioni precise costanti abbondanti se non facciamo delle concimazioni precise costanti abbondanti e non abbiamo per cui un'attenzione di questo tipo inizia ad essere un terreno complicato da mantenere ma viceversa il per contro un terreno argilloso invece comporta delle grandissime problematicità perché da una parte il terreno argilloso tende ad accompattarsi e quindi a mancare di aria senza aria le radici non vivono non assorbono i nutrimenti dall'altra parte si c'è presenza di acqua in un terreno argilloso ma troppa l'abbiamo visto un attimo fa quindi potremmo tenere a mente come un terreno ideale e a questo famoso rapporto 70 30 dopodiché 80 20 60 40 65 35 sono ottimi ottimi terreni ovviamente purtroppo è chiaro fin qua sono mi sono un po' perso prima in alcune considerazioni ma credo che sia sufficientemente chiaro mascalzone mi dice per me stai andando benissimo giuseppe angelo mi dice ok nicolas mi fa già un'altra domanda bellissima domanda fa alessandro baniere come posso capire fai da te le caratteristiche del terreno del mio giardino ci arriviamo ottime domande un'altra domanda anche di dario bene 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 alle domande arrivo sicuramente tra un attimo abbiamo messo a fuoco anche se non sono stato preciso nelle definizioni come un terreno sabbioso è un terreno ottimamente drenante un terreno neutro un terreno che va chiaramente concimato con frequenza è un terreno però molto aereato e quindi crea la possibilità di generare un tappeto erboso molto sano viceversa abbiamo capito come un terreno argilloso probabilmente va corretto e a questo a questo quadretto purtroppo ahimè dobbiamo metterci vicino la realtà la realtà delle cose è che il famoso rapporto 70 30 ce lo sogniamo di giorno e ce lo sogniamo anche di notte cosa voglio dire con questo voglio dire che fondamentalmente molto spesso il terreno sul quale andiamo costruire il prato residenziale è un terreno come dovreste vedere fuori qua cioè che è stato oggetto di scavi è stato oggetto di lavori da parte delle imprese edili sicuramente non è quella bellissima non è in quel bellissimo rapporto e tra l'altro prima di entrare in questo dettaglio volevo farvi aprire un altro piccolo breve capitoletto e poi arriviamo alle conclusioni il capitoletto è questo abbiamo parlato della sostanza solida abbiamo parlato della sostanza minerale e quindi sabbia argilla e limo fondamentalmente però ci siamo dimenticati di parlare di un altro elemento che compone la parte solida e che è la sostanza organica la sostanza organica è importantissima che cosa intendo per sostanza organica la strana organica potrei banalizzando dire l'humus cioè la decomposizione di tutte le strutture vegetali morte che vengono ricomposte e che formano l'humus che l'humus in realtà la tutta la sostanza organica non è composta da humus però è per rendere per farvi capire la sostanza organica è molto importante perché crea a tantissimi vantaggi ad esempio nella sabbia perché va a volgere i granelli e quindi crea una giusta ritenzione idrica nel terreno ovviamente se un terreno sabbioso la sostanza organica permette l'attività microbica perché se non c'è sostanza organica non c'è un altro elemento per esempio per i microrganismi abbiamo visto come i microrganismi siano importanti per la salute del terreno ma ancora di più la sostanza organica rende molto più disponibili gli elementi nutritivi di un terreno e quindi andiamo a parlare di azoto di fosforo e di potassio ma ancora la sostanza organica un importante regolatore del ph si dice che svolge un'azione tampone cosa voglio dire che un terreno privo di sostanza organica è un terreno che tende al morto e probabilmente no probabilmente senza probabilmente è un terreno nel quale il prato il tappetto erboso avrà molta difficoltà di insediarsi con insediarsi in maniera robusta fitta bella e a creare quindi un ottimo prato quindi è di fondamentale importanza che venga sì rispettato quel rapporto 70 30 ma essendoci così tanta sabbia ed essendo la sabbia un materiale inerte c'è bisogno che questa venga compensata da un'adeguata presenza di sostanza organica e qua torniamo al quadretto che abbiamo detto un attimo fa dolente perché da una parte praticamente è molto difficile in italia trovare naturalmente dei terreni residenziali ad alto contenuto di sabbia è molto più facile molto più spesso trovare provate a pensare l'antica tradizione delle argille in italia e trovare dei terreni di natura basati su argilla quindi dei terreni fondamentalmente sono asfittici sono dei terreni che hanno magari anche purtroppo una grossa ritenzione dell'acqua e quindi dei terreni che fondamentalmente non sono ideali o che comportano tutta una serie di problemi per quanto riguarda avere un bel prato un bel tappetto erboso a fianco a questo quadro desonante adesso me ne metto un altro e dirte no fabio basta questa sera sei veramente palloso purtroppo ahimè vi dico che molto spesso i cantieri edili all'interno del della costruzione di una casa portano fondamentalmente dei terreni di riporto che sono dei terreni morti cioè dei terreni che hanno al proprio interno che provengono magari da scavi di superficie nel quali c'è stato non ci sono state mai delle attività vegetali o c'è stata poca attività vegetale per cui in realtà non si sono creati flora batterica non ci sono stati microrganismi insomma si dice un terreno morto terreno morto altro non è che un terreno privo di sostanza organica e quindi ci troveremo ci troviamo molto spesso ad avere non solo in un terreno nuovo ma anche nel terreno nostro nel terreno del prato un terreno magari ricco di argilla e povero di sostanza organica questo è il quadro più desolante in assoluto ok quindi ci sono però dei buoni argomenti ok quindi se questo qua è un quadretto un po desolante abbiamo comunque la possibilità di andare a correggere queste caratteristiche del terreno da una parte un po più complicata anzi molto più complicata andando una volta che scopriamo che il terreno è troppo argiloso andando a fare delle carottature non lo fare delle lavorazioni professionali andando semplicemente anche riportare della sabbia che poi anche se non si effettuano le bucature va in profondità o comunque se noi eseguiamo una rieggiatura una risemina e andiamo a riseminare con un terriccio ricchissimo di sabbia in www.bespratto.com ne trovate uno che è un'alta percentuale di sabbia e che tra l'altro ha anche una non è composto da torba ma è composto da una sostanza che potremmo chiamare quasi organica che sono dei triturati di fibra di legno quindi completamente vegetali una cosa è che tra arriviamo tra un attimo quando parteremo parleremo di come arricchire un terreno povero con della sostanza organica perché ci sono delle pratiche che sono sbagliate ma rimaniamo nella correzione per renderlo più sabbioso l'unica cosa è quella di eseguire dell'asportazione di terreno se è possibile con delle carotature oppure un riporto ad esempio può essere utile una distribuzione ogni anno dopo una rieggiatura dopo una risemina di un terriccio ricchissimo di sabbia o addirittura di della sabbia corretta con della sostanza organica a questo riguardo vi apro un capitolo vi apro un capitolo vi apro un appunto perché ci saranno delle importantissime novità spero di riuscire di annunciarvele già per questa stagione autunnale se non sarà per questa stagione sarà per la prossima primavera stiamo ragionando nel cercare delle sabbie corrette che possano essere un ottimo un valido prodotto non stiamo pensando ovviamente alla sabbia da cantiere edile magari calcarea che trovate nel nei negozi di edilizia che non va assolutamente bene le buone notizie arrivano nel momento in cui scopriamo che il nostro terreno è scarso di di sostanza organica ce ne accorgiamo un po è se lo iniziamo a guardare notiamo che cavolo non c'è un ombrico ok purtroppo ahimè qualche volta quando capitano le talpe in realtà c'è anche molta sostanza organica un altro insomma ci sono degli elementi che ci possono far capire anche la difficoltà le difficoltà di un prato di di strutturare la presenza di tanto feltro potrebbe essere indicatore che non c'è un'attività di decomposizione del feltro sufficiente insomma un osservazione del vato ci può far capire che c'è bisogno di sostanza organica sostanza organica andrebbe data ad un terreno prima della dopo aver lavorato il terreno durante la lavorazione del terreno prima della creazione del prato si può dare della sostanza organica e molto spesso ci arrivano le mail in www.bestprato.com che ci chiedono a fabio è giusto dare mettere dello stallatico allora se volete la mia personale opinione la risposta è sostanza organica quindi va bene però è lo stallatico il tappetto erboso dal mio punto di vista sarebbe meglio dargli della sostanza organica di derivazione più possibile vegetale che contenga lignina che contenga cioè quello che il prato nel corso le graminacee nel corso dei secoli abituato avere sì è vero che magari una volta anche gli animali si facevano i propri bisogni e quindi il prato il tappeto veniva concimato in questa maniera ma è probabilmente anzi non probabilmente l'apporto di sostanza organica di origine vegetale è la cosa migliore da fare come si fa ad apportare ci sono dei concimi di completamente di origine vegetale che contengono sostanza umica nobile tra l'altro in www.bestprato.com abbiamo proprio un concime particolare che viene utilizzato in realtà per altri scopi proprio ma in estate in inverno perché ha delle potentissime attività bio stimolanti si chiama natural green estate inverno che in realtà non è altro che sostanza umica sostanza organica nobile molto molto nobile prendere un sacco da 7 kg di questo concime e mescolarlo durante le operazioni di fresatura del terreno è molto importante è molto molto importante una volta se invece il nostro terreno già abbiamo il prato e notiamo e capiamo comunque ci vogliamo assicurare che nel terreno vi sia sufficiente sostanza organica qua ci vengono in aiuto alcuni prodotti di ultima generazione che sono proprio dei acidi umici quindi sostanza umica sostanza organica umificata molto nobile molto ricca molto potente molto utile che viene data che può essere data al terreno per via come sostanza liquida sono i bio stimolanti che molto spesso ci sentite parlare nelle dirette di www.besprato.com che andiamo a suggerire ad esempio come bio stimolanti di tipo radicale chi tra di voi ci segue avrà sentito molto spesso che consigliamo di dare acidi umici e acidi fulvici per via radicale no anche quando consigliamo di fare i trattamenti contro le malattie fungine consigliamo di mescolare a questi microrganismi anche questi bio stimolanti che altro non sono che sostanza organica ok quelli composti da acidi umici acidi fulvici quindi per chiudere il discorso fare due tre meglio quattro applicazioni di bio stimolante radicale al prato tra l'altro fa benissimo al prato ma va anche ad ammendare il terreno in maniera incredibile il prodotto si chiama vigor liquid ed è della bottos ma ripeto ci sono degli altri prodotti non li trovate questi in www.besprato.com vigorliquid sin confezione da 1,5 kg momento pubblicitario però li trovate anche di altre marche credo che boh aiutatemi magari credo che acidi umici fulvici sostanza organica nobile sia presente anche a catalogo in tempo verde in erbatec sicuramente sì se non volete sbattervi perché sono comunque prodotti di non facile dire che non è facile trovare sapete che www.besprato.com li trovate ok cosa volevo dire credo di aver detto più o meno tutto abbiamo parlato della sostanza organica abbiamo parlato della composizione del terreno abbiamo detto come l'importante rapporto 70 30 abbiamo detto di come nel prato vada garantita la presenza di aria e anche l'assenza di aria che vada garantita la presenza di acqua ma anche che essa non sia troppo presente ci sarebbero degli altri argomenti che potremmo andare in approfondimento sul quello che riguarda il terreno ideale ma sono magari un po troppo tecnici parliamo ovvero ad esempio del ph e di come il ph sia importantissime che molto spesso sia difficile da variare il ph ma non adesso non mi voglio ad entrare magari faremo una diretta per pochi intimi e quelli più nerd che a cui gli interessa il tema direi che con questo ho concluso ho fatto un 30 35 minuti di pistolotto tecnico sarete tutti scappati fatto come comunque ci sia ancora un po di persone e vengo per cui a direi a rispondere alle vostre domande che vedo che sono che sono numerose allora 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 nicolas di angelo mi scrive non appena torno mi aspetta nuova semina maciste verticute agrostis alfa mamma mia nicola sei un super tecnico ottimo intradotto nicolas farà una una nuova semina con maciste quindi sicuramente controllerà che il terreno sia ricco di sostanza umica controllerà che il terreno abbia un rapporto 70 30 cosa molto difficile da fare c'era una domanda andiamo avanti andiamo avanti paolo giordano ciao domanda è buono fare del compost per il prato cosa intendi per compost se intendi la degradazione l'humus prodotto dalla sostanza organica di origine animale dal mio punto di vista è meglio sempre utilizzare comunque solo coppellettato ad esempio di stallatico ma come hai sentito se ti orienti e il mio consiglio è di orientarti verso sostanze organiche di natura vegetale purtroppo da questo punto di vista la cosa migliore è quella di andare su prodotti specifici prodotti tecnici per l'amore di dio ci arrivi anche utilizzando no ci scrivono degradazione di unghie queste cose qua ma quanto tempo impiega questa sostanza organica per essere poi disponibile degradata eccetera 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 una vita a cui insomma bisogna sempre utilizzare le cose giuste ma utilizzarle a ragione stefania ogni quanto fare rieggiatura allora stefania faremo una diretta proprio sul tema della rieggiatura credo fra un paio di settimane perché stiamo per arrivare alla stagione ideale per fare la rieggiatura che è appunto l'autunno autunno e primavera successiva nicolas altra domanda mi fa successivamente al verticud verticat è meglio riporto di terriccio con sabbia solo sabbia silicea dipende dal terreno se un terreno fondamentalmente già bilanciato potresti fare un riporto di terriccio generalmente ci fa riporto solo di sabbia perché chi fa queste operazioni comunque ha passione ed esegue costantemente delle manutenzioni bellissima domanda alessandro come posso capire fai da te le caratteristiche del terreno del giardino quasi impossibile sarebbe sempre opportuno almeno una volta nella vita del vostro prato fare un'analisi approfondita da un laboratorio che fa un'analisi specifica lo faremo faremo proprio qua fuori vi faremo vedere nella prossima nelle prossimi video nei prossimi articoli di approfondimento e anche nella prossima diretta vi farò vedere l'analisi del terreno e i bellissimi risultati che questa analisi del terreno permette di dare ci sono delle 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 modalità un po alla vecchia no tipo prendere un po di terra inumidirla cercare di creare una pallina sentire se c'è una ruvidità se ruvida potrebbe essere della della sabbia quindi delle strutture un po più grossolane se si riesce a creare una pallina che rimane in forma a creare ad esempio delle dei cilindri che si riescono a piegare probabilmente c'è una presenza forte di argilla si può vedere se si diventa friabile sì oppure no se friabile c'è una presenza maggiore di sabbia poi c'è quel classica c'è un altro sistema che si basa sul peso specifico degli elementi che sono diversi cioè prendere la sabbia metterla in un contenitore io l'ho fatto con dell'acqua magari una bottiglia sbatterla un bel po lasciare sedimentare ma molto spesso la separazione non avviene in maniera così netta e quindi non è così facile vedere che sotto si si diventa la parte fondamentalmente più pesante della cosa e sono sistemi un po empirici nelle quali non è facile sicuramente lo puoi capire più ad intuito no se si formano facilmente delle pozzanghere nel prato se rimane molto spesso umido costantemente probabilmente c'è una presenza di argilla notevole bene andiamo avanti dario allora dario mi scrive ciao fabio mio terreno è piuttosto raggilloso nonostante varie creazze non fungine potrei bucarlo adesso e ricoprirlo di sabbia allora il viti e adesso no sono operazioni che devono essere sono operazioni violente che creano un trauma sia le reggiature sia le bucature sia le carotature e la bucatura serve più che altro generalmente non viene riempita ma serve a creare della reazione corretta in un terreno argilloso il riporto di sabbia andrebbe fatto con una carotatura che viene fatta con delle macchine impegnative però un po di riporto di sabbia lo puoi fare se è argilloso ma non adesso il porto di sabbia eventualmente unita ad esempio a un'operazione di ressemina una reggiatura profonda e qualche bucatura qua e là puoi farla un bel un bel trucco di una ressemina che ci ha detto che mi ha spiegato il mio professore quando sono andato a studiare alla scuola del parco di monza la scuola agriaria del parco di monza ha detto che può essere una buona pratica ad esempio mescolare i semi fare una sorta di pre germinazione cioè si prendono i semi li si mettono ovviamente la quantità che non so un chilo di semi si sa che un chilo di semi servono a fare 30 metri quadri si mette quella quantità in della sabbia che però viene un po inumidita allora lì avviene quasi una sorta di pre germinazione dopo questo impasto viene distribuito nei 30 metri 40 metri quadri che serve fare il chilo 20 e avviene che il seme ha già iniziato un po la germinazione appena appena viene dato il giorno dopo ma viene anche dato un riporto di sabbia al terreno allora giuseppe angelo composto cinque anni fa il terreno del mio tappeto arboso stratigraficamente sulla roccia calcarenitica poggia uno strato di un paio di metri di terra grassa rossa quindi uno stratterello di sabbia va bene la domanda non c'è mi pare che lo stratterello di sabbia c'è ovviamente più si va su stratigrafie molto ben definite cioè sto pensando appunto ai campi da calcio che fondamentalmente sono sul supporto sabbioso i campi da golf campo di wimbledon lo ieto stupendo che è creato credo su un supporto prevalentemente ed esclusivamente di sabbia però questo tipo di terreni sono terreni molto impegnativi sono terreni che danno delle soddisfazioni incredibili ma sono terreni impegnativi perché la sabbia tra l'altro rispetto all'argilla si salda molto di più quindi se voi avete un bel prato su un terreno 80 lenti 90 10 e vi dimenticate di regarlo e magari di fare del siring in ogni tanto per raffreddarlo oppure vi dimenticate una concimazione sono terreni che portano in facile forte stress il prato ottima idea la sabbia idonea si grazie alessandro ci stiamo lavorando tra l'altro giovedì sarò prima sua monza poi dovrei passare per parma avrò un incontro con persone molto più brave molto più in gambia di me che ci daranno i giusti suggerimenti ovviamente sarà se riusciremo a farlo un composto ammendante per l'amendante sabbioso per il terreno però molto nobile non dovete pensare 3 euro a sacchetto no un prodotto particolare destinato a poche persone occhio a non esagerare con lo stallattico bravo enrico concordo beato te giuseppe angelo io acqua salmastra quei pochi che vedo sono sotto la compostiera ma non si avventura nel prato ok se un terreno mi fa la domanda mascalzone è deficitario di uno degli elementi essenziali è possibile correggerlo sì scrivimi quali elementi essenziali e ti dico come fare ma credo che a questo punto dovresti averlo capito anche tu giuseppe angelo nel pomeriggio ho tagliato a 7 centimetri e ho dato always a proposito il fosfito di potassio dato la scorsa settimana comincia a dare sui effetti grazie a fabio bravo giuseppe cioè di dico bravo non perché mi ha complimentato ma perché stai facendo quelle cose che secondo me un po le stiamo ripetendo all'infinito ma vedrai che il prossimo anno il tuo prato mettendo in pratica un'altezza cosa ha fatto giuseppe lo spiego ha alzato un po l'altezza d'italio ha portato a 7 centimetri ottima operazione da fare durante l'estate ha dato always che è un ottimo bio stimolante tra l'altro ha sostanza organica che però durante l'estate ha questa incredibile capacità di detossificare i colpi di calore e soprattutto ha dato pregate che è un fosfito di potassio che tende a irrobustire il prato e quindi a creare una barriera sempre più forte alle malattie fungine e irrobustizia la pianta contro i caldi estivi e tra l'altro anche questa capacità di equilibrare gli equilibri la presenza di acqua all'interno delle strutture vegetali sono tutti i prodotti che trovate ovviamente nel nostro shop non solo anche nei migliori garden prima ti mi dite che faccio troppa pubblicità al vesprato però ragazzi miei queste dirette sono sponsorizzate come avete visto all'inizio da teraplastra e da best prato giuseppe allora grazie giuseppe che mi scrive volevo ricordati di rispondere alla domanda di qualche giorno fa su cosa può cadere se viene data una quantità eccessiva di pregate allora nella scorsa diretta abbiamo detto pregate del fosfito di potassio allora sì mi sono confrontato con dei tecnici molto più bravi di me in realtà dare delle quantità non produce eccessive non produce clorosi come tu avevi detto cioè non produce dei dissecamenti del prato è chiaro che se noi andiamo a dare 60 80 grammi 100 grammi per metro quadro scusa per 100 metri quadri in 10 litri d'acqua iniziano ma non è quello lì il problema quindi non c'è un rischio che si vengano a creare delle situazioni negative però anche il tecnico diceva ovviamente qualsiasi elemento dato a qualsiasi quantità a una quantità molto molto superiore può creare la morte del prato e quindi la clorosi l'ingiallimento perché gli abbiamo dato una quantità eccessiva ma di qualsiasi elemento anche dell'aceto normalissimo anche di sostanza organica troppo anche di azoto ok quindi comunque tu ci facevi la domanda se viene dato in quantità doppia non è un problema se viene dato in quantità tripla non è un problema a quantità successive assolutamente sì il laboratorio quanti centimetri di profondità utile verificare la procedura per il laboratorio una procedura che spiegheremo te la spiegano anche i laboratori vengono fatte delle campionature si fanno delle con una zappetta si va a scavare fino a 15 centimetri 15 20 centimetri si prende un campione qui il campione la generalmente dicono un campione per ogni 100 metri quadri di prato se hai solo 100 metri quadri di prato come noi qua fuori prenderemo due campioni ai due lati opposti gli mischiere ci toglieremo tutte le strutture vegetali li mescoleremo insacchetteremo in un bel sacchetto li spediremo al laboratorio 20 30 è un po eccessivo cioè dobbiamo sempre pensare a quale no 20 30 centimetri di campione un po eccessivo perché le radici arrivano generalmente se sei bravo fino a 20 centimetri quindi andare oltre i 20 non serve ecco bene credo abbiamo fatto una cinquantina di minuti argomento molto tecnico faccio un riepilogo finale per quelli che si fossero collegati adesso e vi dico ovviamente poi nella descrizione di questo video mi inserirò tutti quanti i riferimenti all'articolo del blog di giardinaggio pratico vi ricordo prima della conclusione di scrivere una newsletter perché mercoledì proprio manderemo una newsletter che tratterà proprio la creazione del terreno ideale quindi sarà una sorta di riepilogo cartaceo di tutti questi argomenti per iscrivervi alla newsletter andate nel sito www.bestfatto.com scorrete la pagina in fondo sulla destra trovate proprio il tastino anzi la scritta newsletter e allora riepilogo finale importantissimo me lo metto qua di fronte la composizione del terreno ideale la composizione di un terreno stand è formato da aria acqua organismi terricoli e sostanza solida sostanza solida è formata una parte minerale sabbia limo argilla e dall'altra parte della sostanza organica il corretto terreno ideale composto potremmo dirlo dal 70 per cento di sabbia 30 per cento di limo argilla e con una quantità sufficiente di sostanza organica che generalmente viene definita parametrizzata da 5 a 25 grammi per metro quadro un terreno può essere corretto può essere corretto generalmente con se troppo ragilloso con l'apporto di sabbia e può essere corretto se morto con l'apporto di sostanza umica nobile sostanza organica nobile possibilmente da origine vegetale bene ho fatto così anche il riassunto con questo è tutto se avete delle altre domande potete scrivere a dr green chiocciola best prato punto com potete anche scriverla nei commenti di questo video e io e il mio staff saremo molto contenti di rispondervi ok con questo è veramente tutto da parte di fabio da parte di tutto lo staff di best prato un buon lunedì sera ciao a tutti ciao ciao